occorre una inquadratura per l'Olanda che adesso dovrà cominciare con l'Ucraina Kopal una ribaltata e salto avanti Carpiato è un salto non molto difficile quindi eseguito abbastanza bene ecco questa è la spinta con le braccia leggermente pigate sulla tavola va in salto avanti Carpiato, leggero passo avanti, gambe leggermente flesse ancora una volta ad un'altra ripresa